Eccoci qua, buongiorno e bentrovati. Prima edizione del nostro telegiornale Vaccinazioni nelle parrocchie siciliane. Si preannuncia un flop l'iniziativa della regione. Nelle 18 diocesi dell'isola su 50.000 inoculazioni programmate. Il numero delle preannotazioni si è fermato a poche migliaia. Nella diocesi di Acireale su 22 hub vaccinali ne sono stati attivati soltanto 4. Un flop le preannotazioni nei centri vaccinali delle parrocchie siciliane. Su 50.000 vaccinazioni programmate dall'assessorato regionale della salute nelle 18 diocesi siciliane. Il dato si è fermato a poche migliaia di adesioni. La fascia dettagli agli eventi diritto a 69-79 anni da vaccinare con AstraZeneca ha segnato il passo in tutte e nuove le province dell'isola. Da Trapani a Catania il numero delle preannotazioni è sceso molto al di sotto delle previsioni. Nella diocesi di Acireale per esempio su 22 hub annunciati solo 4 verranno attivati per un totale di 300 preannotazioni a fronte di una disponibilità di 2.200 vaccini pianificate dalla Spetenea tanto che i punti vaccini previsti nell'area pietamontana sono stati soppressi per il basso numero delle prenotazioni. Solo 100. Un dato considerato esigo per muovere la macchina organizzativa composta da medici, infermieri e amministrativi. Un lavoro enorme ma poco produttivo se si considera che le fiale AstraZeneca viaggiano in speciali contenitori a meno 80 gradi centigradi e una volta scongelate vanno iniettate per non perderne l'efficacia. L'insuccesso dell'operazione vaccini nelle parrocchie probabilmente è da ricercare nella poca fiducia dei cittadini nei riguardi del vaccino anglo-svedese dopo i casi di morti sospette e il blocco del siero nei vari stati in attesa delle verifiche scientifiche. Non è bastata la certificazione di sicurezza rilasciata dagli scienziati e gli appelli di medici e di immunologi di fama. La gente rimane a ristia a farsi vaccinare con AstraZeneca. Quattro centri vaccinali su 22 allestiti nella dioce siacese ad Acicatena presso il centro della gioventù di via Aldomoro cui si riferiscono le immagini ad Aciriale nella parrocchia della Madonna della Fiducia di via Wagner a riposto nel salone parrocchiale ubicato in via Pier Santi Mattarella e a fiume freddo di Sicilia nella parrocchia della Chiesa Maria Santissima dell'Immacolata. Don Arturo Grasso è il referente vaccinale della diocesi di Aciriale. Solo in 300 si sono prenotati ma non solo nella nostra diocesi ma anche nelle diocesi di Sicilia c'è stata proprio una riduzione della gente, la gente non si è voluta, non si è prenotata forse perché il periodo di Pasqua ma probabilmente anche il vaccino AstraZeneca che attorno adesso è nato una paura dopo tutte le notizie che sono state pubblicate. In linea con le direttive del governo è possibile estendere il vaccino a coloro che si presenteranno negli hub vaccinali che potranno ricevere siero in caso di disdette tra le prenotazioni registrate ma la disponibilità è limitata a 100 inoculazioni. Abbiamo solo 300 persone come dicevi tu prima che si sono prenotate, abbiamo una possibilità di averne altre 100 perché i punti vaccinali sono solo 4 nella nostra diocesi e quindi solo altre 100 libere abbiamo la possibilità di poter vaccinare. Il sistema è saltato soprattutto nella zona pedemontana nella fascia che corre tra i comuni di Miro, Sant'Alfio e Calatabbiano. Il sistema è saltato nella zona pedemontana perché sono state le prenotazioni meno di 50 e quindi si cercava di accorpare fra i vari comuni però i comuni già presentano in sede gli hub vaccinali stabili quindi la gente ha preferito vaccinarsi, vaccinarsi proprio all'interno del proprio comune nei locali predisposti dai comuni stessi. E assume i contorni della sfida la protesta dei ristoratori siciliani indipendenti dopo la prolungata chiusura sono pronti a ripartire annunciando la riapertura per il prossimo 7 aprile. Sentiamo Francesco La Rosa. Una protesta senza fine, quella dei ristoratori che anche stamattina hanno manifestato contro le misure restrittive anti-covid in Piazza Università Catania. Alcune centinaia di ristoratori locali ma anche provenienti dalla provincia hanno aderito alla manifestazione sottolineando di non riconoscersi più nelle tradizionali sigle sindacali e nelle varie associazioni a livello nazionale e regionale. Annunciata un'apertura dei locali per il prossimo 7 aprile a prescindere dalle disposizioni in tal senso. Questa manifestazione di oggi serve a significare che dal giorno 7 si riapre, giorno 7 noi riapriamo a dispetto di qualsiasi DCPM, siamo in contatto con delle chat nazionali, ci sono tanti movimenti in Italia come il nostro che abbiamo deciso tutti quanti un giorno unico per aprire ed è giorno 7. Noi riapriremo perché ci è stato tolto il lavoro, ci è stata tolta la dignità, adesso c'è la fame, abbiamo le nostre famiglie da mantenere, quindi noi rispetteremo tutte le regole possibili del DCPM, non ne rispetteremo solo una che noi apriamo, ci sarà il distanziamento, ci saranno le mascherine, però visto che non sono stati capaci di darci degli indennizi, l'ultimo ristoro, l'ultima elemosina è stata data 5 mesi fa, ora basta, noi dobbiamo aprire, dobbiamo uscire da questo gioco dei colori, c'è una strategia sotto, quella per azzerare noi e la filiera, noi chiediamo oggi le dimissioni del Ministro Speranza. Ormai siamo stanchi, ormai non ci si arriva più, siamo qui oggi per preannunciare quello che abbiamo già detto nella precedente manifestazione, che noi marcieremo su Roma, ci stiamo coordinando con vari gruppi indipendenti di ristoratori italiani per avere una data unica, per avere un numero massiccio di persone da poter campeggiare sotto Palazzo Chigi, aderiremo alla manifestazione di Oapro di giorno 7. Anche in provincia grosse problematiche che restano irrisolte? Le problematiche sono per tutti uguali, quindi i ristoratori siamo stati penalizzati dall'inizio alla fine, è da un anno che cerchiamo di capire come andare avanti, non si può più, quindi ormai siamo alla canna del gas, basta. Zona rossa a Giarre e in altri comuni dell'Interland, ma è una fake news, il sindaco Danna ha annunciato l'avvio di accertamenti per risalire agli autori di questa bufala. Zona rossa e dopo Pasquetta nell'area metropolitana di Catania, tra Cireale, Giarre, Sant'Alfio, riposto, Mascali, ma è una fake news che è circolata ieri sui social e si è pensato subito ad un pesce d'aprile, ma di pessimo gusto su un tema così delicato, il sindaco di Giarre, Angelo Danna, pronto ad attivare azioni per risalire a questi balordi. Però bisogna stare attenti perché quando si ha di mezzo un bene primario, quello della salute, quando un'intera nazione, anzi a livello internazionale, si combatte contro questo male, invisibile, che però ha bloccato di fatto l'economia, ha creato difficoltà nei rapporti sociali, ha creato tanti lutti e tante preoccupazioni, lo scherzo poi è di cattivo gusto. Allora queste fake news, tra l'altro la cosa grave, utilizzando e appropriandosi indebitamente di quello che è il logo del comune, quindi qualcuno ha simbaticamente, tra virgolette, preso il logo del comune, ha dato questo tipo di comunicazione, addirittura estrapolando da altre parti, ha messo pure il commento contro l'amministrazione perché quello non guasta mai, giusto per dirla. E allora capite bene che tutto ciò non è accettabile, invito questi cosiddetti burloni ad essere molto attenti, se riusciremo a risalire alla fonte originale io andrò a sporgere denuncia, altrimenti sarebbe una denuncia che purtroppo non riesce perché a me è arrivata tramite un messaggio Whatsapp che a sua volta era stato mandato da qualcuno, che a sua volta aveva ricevuto, quindi bisogna individuare dove è stato effettivamente pubblicato. La verità è che la notizia poi con i mezzi attuali si sparge a macchia d'olio e quindi abbiamo ritenuto correttamente con il servizio di comunicazione del comune di fare una comunicazione di smentita rispetto a queste risultanze. Il ritorno a zona arancione dopo la Pasquetta sarebbe un ulteriore colpo di spranga, non solo per giallo, ma per tutti i comuni che fino a prima di queste settimane in arancione erano di colore giallo come tutta la Sicilia. Sì, questo è un altro tema delicato, io credo che ormai bisogna essere estremamente attenti perché se da una parte le vaccinazioni, in tal senso oggi ho avuto un'interlocuzione anche con la direzione dell'Asp, nei prossimi giorni darò più approfondite notizie proprio per intensificare, ampliare il più possibile le vaccinazioni. Ripeto, se queste vaccinazioni rappresentano oggi lo strumento principale per superare la fase pandemica, è altrettanto vero che però bisogna tenere conto dei grossi sacrifici che in questo momento le imprese, io penso alle attività ristorative, ma a tutte le attività commerciali, turistiche, al mondo dello sport, al mondo dello spettacolo, cioè ci sono intere categorie in questa triste condizione. Dobbiamo trovare al più presto una sintesi che permetta di consentire a queste categorie di lavorare. Noi come amministrazione tra l'altro stiamo valutando altre forme di piccoli aiuti verso i ristoratori, pizzerie, paninerie, ristoranti, ma appena la fineremo saprò dirvi di più. Oggi è venerdì santo, ma quest'anno i riti pasquali sono stati fortemente modificati a causa della pandemia, annullate le via Crucis e visite al Cristo morto e celebrazioni ovunque nel rispetto delle norme anticontagio. Sentiamo Francesco Larosa. Stravolte o modificate le consuetudine relative ai riti pasquali. Le restrizioni dovute alla pandemia inducono alla rivisitazione di orari e svolgimento di alcune funzioni. Praticamente abolito ieri il giro delle chiese del giovedì santo, mentre oggi non si terrà la tradizionale via Crucis, soltanto la possibilità, in maniera oculatamente ordinata, di frequentare le celebrazioni religiose nella piena osservanza delle disposizioni anticontagio. Celebriamo sempre secondo le dovute precauzioni e quindi evitando sempre gli assembramenti. Il giovedì santo ieri ad esempio non c'è stata la lavanda dei piedi nella celebrazione. Le chiese si sono chiuse molto prima rispettando gli orari prescritti. Il venerdì santo non c'è la processione del Cristo morto e quindi chiaramente tutto questo provoca delle restrizioni. Il sabato santo, la veglia pasquale qui in Basilica sarà alle ore 19, mentre di solito si faceva alle 23. Tutto questo ha comportato un adeguarsi alle norme, perché è giusto in questo momento che queste norme di sicurezza si rispettino, però credo che l'essenziale dei riti pasquali sia salvaguardato e questo è quello che importa. Questo è il significato pregnante della Pasqua. Occorre una grande capacità di adattamento e di saper scegliere ciò che è essenziale, ciò che è importante davvero. Il Cristo morto invece verrà esposto nella Basilica di San Pietro? Sì, verrà esposto, ma sempre con le dovute cautele e quindi credo che anche lì si stiano organizzando appunto perché tutto venga svolto con prudenza. Il messaggio è quello di non mollare, di non scoraggiarsi e di continuare a sperare, di continuare a sperare e aggrappandoci a quello che veramente conta nella vita. Ci siamo resi conto che siamo assolutamente vulnerabili, siamo fragili, siamo precari e quindi in che cosa noi mettiamo la nostra speranza? Il Signore che risorge la morte ci dice che nulla è impossibile e quindi dobbiamo continuare a credere. L'uovo di Pasqua resta il simbolo della festa più importante per la cristianità. Di uova ne vengono prodotte di tutti i tipi e per tutti i gusti. Siamo entrati in una fabbrica. Il più piccolo si contiene in un cucchiaino da caffè. Il più grande arriva a pesare 12 chili le uova di Pasqua. Delizia del palato di questi giorni restano un must sia per bambini che adorano scartarle. Per scoprire quale sorpresa loro è stata destinata che per i grandi che ne apprezzano i gusti nelle molteplici varianti che il mercato, soprattutto quello siciliano, sa offrire. Al cioccolato fondente, al latte bianco e poi ancora con scorze d'arancia profumati al limone, granellati al pistacchio, nocciole e mandorle ad ognuno il suo. Qui in questa azienda alle falde del vulcano che vanta una produzione dolciaria dai primi anni del 70 ormai da tempo. Se ne arrivano a confezionare un milione all'anno e viaggiano in tutto il mondo le sorprese. Sempre più ricercate per i più piccini ci sono i giochi apprezzatissimi. Per gli adulti dei veri e propri cadò dai colori e dalla fattura tutta made in Sicily. La trinacria, le ceramiche di Caltagirone, c'è anche l'uovo dedicato a Sant'Agata. Un dono da fare e da farsi. Un anno difficile per chi opera in questo settore, ma pian piano ci si risolleva, spiega Fabio Gangemi, che ci racconta come la produzione lo scorso anno, pronta ad arrivare ai mercati, subì un durissimo colpo in quanto in concomitanza con il primo lockdown. Sicuramente sì. L'anno scorso onestamente siamo stati oltremodo penalizzati dalla situazione che ci ha colto un attimo all'improvviso, perché eravamo tutti organizzati con una Pasqua che era ormai alle porte. Quest'anno onestamente abbiamo preso delle contromisure, ci siamo un attimo attrezzati, adeguati ai tempi e pare che comunque anche il consumatore stia rispondendo molto bene. Questa è l'informazione che ricevo dai punti vendita che ci sono in tutta Italia. Le uova non sono soltanto di cioccolato fondente al latte bianco, ma adesso si spazia con una varietà impressionante. Ce ne elenchi alcuni? Diciamo che per soddisfare sempre le maggiori esigenze, gusti e consumi stiamo un attimo diversificando la gamma dei prodotti. I prodotti che vanno da non solo più i classici gusti di cioccolato al latte, cioccolato fondente, ma abbiamo delle uova di cioccolato bianco, uova con cioccolato bianco aromatizzato al limone, all'arancia, poi di gran moda assolutamente oggi il pistacchio. C'è un aspetto particolare, ovvero quello della sorpresa, che non affascina solo i bambini, ma anche gli adulti che ricevono un uovo. Si è scelto, in particolare la vostra azienda ha scelto di privilegiare le produzioni locali, in particolare le ceramiche di Caltagirone. Diciamo che questo discorso sì, senz'altro è stato possibile, soprattutto in una fascia di prodotto che noi realizziamo, che chiamiamo appunto uova i siciliani. Com'era la produzione di allora e la differenza rispetto a oggi? Senz'altro la differenza è sostanziale sia in termini di numeri di pezzi realizzati che di processi produttivi. Parliamo davvero di un prodotto all'epoca realizzato in una maniera artigianale, si può dire che ogni uovo veniva fatto uno ad uno. Oggi, grazie alle tecnologie, riusciamo ad avere una produzione, diciamo, industrializzata, anche se la funzione dell'operatore è sempre determinante. Ultimamente stiamo invece riscoprendo il consumatore finale che per gratificarsi anche da questo periodo di difficoltà vuol farsi un regalo che renda questa Pasqua indimenticabile. Le hanno chiesto di mettere delle sorprese particolari all'interno delle uova, non so, ce n'è qualcuna magari singolare? Diciamo che questo è uno dei servizi che noi facciamo, che è quello di andare a personalizzare eventualmente l'uovo, in particolare con una sorpresa che ci viene fornita. Diciamo che spazia la fantasia del consumatore a 360 gradi, anche se poi in effetti dal gioiello al buono del viaggio che oggi purtroppo risulta essere sicuramente penalizzato. Volevo rivolgermi ai consumatori siciliani in questo caso, che è quello di attenzionare particolarmente le aziende siciliane. Non mi rivolgo alla mia di azienda, non parlo solo di Pasqua, ma parlo a 360 gradi degli acquisti che facciamo ogni giorno. Ritengo che sia fondamentale oggi avere la giusta attenzione verso le produzioni siciliane, perché dietro le produzioni siciliane ci sono senz'altro impegno, sacrificio, passione e soprattutto tanti lavoratori. E oltre 2.000 giocattoli contraffatti sono stati rinvenuti e sequestrati da militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania in un esercizio commerciale del capoluogo etneo. I finanzieri hanno sequestrato 2.463 giocattoli in quanto riproducenti marchi famosi e registrati in violazioni del diritto di privativa industriale. Tra le migliaia di pezzi sono stati rinvenuti, già assemblati e pronti per la vendita. Centinaia di uova in plastica, imitazioni del noto Pasqualone, con la sorpresa realizzata con prodotti scadenti e non adatti ai più piccini come cinture e portamonete per adulti. Successivi riscontri delle fiamme gialle hanno inoltre permesso di individuare un cospicuo numero di etichette riproducenti. I noti supereroi della Marvel e di famosi personaggi di Topolino, Me Contro Te, Bing e Frozen, nonché CR7, pronte per essere apposte sui prodotti ancora in fase di confezionamento, nonché numerosi giocattoli altamente pericolosi per la salute e dalla dubbia provenienza. Tutti gli articoli contraffatti sono stati sequestrati e il commerciante, un italiano, è stato denunciato a piede libero per commercio di prodotti contraffatti e utilizzo di segni mendaci. Ancora poco utilizzata la fermata ferroviaria dell'aeroporto di Catania, inaugurata il 13 marzo scorso, unisce le strade ferrate dell'isola con lo scalo di Fontana Rossa. Lo scorso 13 marzo veniva inaugurata la fermata ferroviaria di Fontana Rossa. Catania dunque entrava nel lotto delle città europee in cui l'intermodalità segna la connessione tra i diversi sistemi di trasporto, gomma, ferro, aria, tutto fuso in un unico aggregatore. La fermata però è ancora poco utilizzata per raggiungere o per partire dall'aeroporto di Catania e ovviamente tutto ciò è principalmente dovuto alla situazione pandemica che di fatto ha decimato i voli su Fontana Rossa e di riflesso il traffico, in questo caso ferroviario, verso la fermata dell'aerostazione Vincenzo Bellini. La fermata però, sebbene nell'oretta in cui è stata da noi presidiata nel pomeriggio di ieri, non ha ospitato nemmeno uno, dicasi un, passeggero diretto o proveniente da Fontana Rossa, sebbene si sia registrato un movimento di circa otto aerei che avrebbero potuto veicolare verso la fermata ferroviaria alcuni passeggeri o ricevere dalla fermata ferroviaria passeggeri da far partire. Al di là dei numeri dunque molto stretti, sebbene ci sono fasce d'orario in cui la fermata è maggiormente frequentata, Fontana Rossa, la stazione ferroviaria, appare assolutamente funzionale, adeguata allo scopo, una volta che si tornerà a viaggiare a pieno regime, anche se a tappe graduali. Allo Stato la fermata è probabilmente utilizzata più da pendolari piuttosto che da viaggiatori, sebbene i benefici della struttura a poche centinaia di metri dall'aeroporto siano davvero ben evidenti. Sono già una cinquantina i treni che quotidianamente fermano a Fontana Rossa, numero che, venne detto durante l'inaugurazione, potrà essere incrementato qualora il fabbisogno lo richiedesse, soprattutto per gestire meglio le fasi di maggior punta del traffico aereo. Appare anche assai funzionale, la servizio navetta garantito dall'AMT, azienda metropolitana trasporti con autobus che hanno una frequenza che si aggira tra gli 8 e 9 minuti e che raggiungono la stazione ferroviaria per dirigersi o provenire dall'aeroporto. Insomma, la struttura appare funzionale, lo dicevamo, ordinata, ben messa, attende solo i viaggiatori e questa è una variabile che sarà determinata solo dalla ripresa costante e progressiva dei voli e non potrà che essere legata all'evoluzione sanitaria della pandemia nella speranza che presto diventi epidemia per essere maggiormente controllata e restituirà la globalizzazione della libertà di movimento anche Fontana Rossa, che, lo ricordiamo, nel 2019 aveva raggiunto il tetto di 10 milioni di passeggeri mai toccato prima, segno di un'impennata costante dei voleri su Catania, per motivi turistici, per motivi di lavoro oppure per soggiorno. Sopra luogo dell'amministrazione comunale di Catania, nel cantiere per la riqualificazione degli impianti sportivi d'inesima, il grande polo periferico, potrà ospitare, una volta ultimato, varie discipline sportive. Il polo sportivo d'inesima a Catania diventerà un sito di fondamentale importanza per tutte le discipline nella capoluogo etneo. Stamattina sopra luogo del sindaco pogliese, accompagnato dall'assessore allo sport Parisi, che hanno verificato lo stato di avanzamento dei lavori di riqualificazione dello storico impianto sportivo, 60 anni dopo la sua realizzazione, ed è soggetto di lavori di riqualificazione che nelle prospettive lo renderanno un fiore all'occhiello dell'impiantistica calcistica cittadina e non solo, lavori che vanno avanti grazie all'investimento di 1.150.000 euro di fondi comunitari del PONmetro, finalizzati al rinnovo delle strutture sportive. Oltre al campo da calcio con misure regolamentari, il cantiere prevede anche la riqualificazione della tribunetta di 700 posti, di due campi di calcetto, degli spogliatoi e delle torri faro per l'impianto di illuminazione artificiale. Il campo d'inesima rappresenta l'unico impianto omologato dalla FIGC, oltre ovviamente a quello dello stadio Angelo Massimino. Verrà rifatto il manto erboso in sintetico, le tribune, gli spogliatoi, due campi da calcetto anch'essi in sintetico e quindi verrà restituita alla città una struttura di eccezionale valenza per il calcio nella nostra città all'interno di un quartiere, quale è quello di Nesima, dove vi sono altri due impianti, mi riferisco alla piscina, mi riferisco al Palanesima, oggetto anch'essi di interventi di manutenzione straordinarie grazie all'utilizzo di fondi extracomunali o di fondi del patto per Catani o del PONmetro e quindi siamo orgogliosi di questo, l'assessore Sergio Parisi si è intestata questa battaglia, ovviamente condivisa dal sindaco e da tutta la giunta e oggi possiamo regalare alla città l'avvio di questi lavori che ritengo entro il mese di luglio saranno ultimati. Siamo molto felici, stiamo rispettando la tabella di Mazza, anzi stiamo andando veloci dalla delibera all'inizio dei lavori, ci siamo stati davvero poco, 5-6 mesi ed è motivo davvero d'orgoglio per me che sono assessore allo sport ma anche dirigente sportivo. L'impianto sarà interamente riqualificato, in erba sintetica di nuova generazione saranno riqualificate le tribune, gli spogliatoi, i campetti alle nostre spalle, sarà riqualificata la tutta la rete di illuminazione del campo e sarà un campo dopo il Cibani messo a disposizione per le squadre fino all'interregionale, sono contento che oggi sia presente qui anche il presidente della FIGC, insomma un lavoro di squadra che sta portando grandi risultati, che porterà risultati non solo sotto il profilo calcistico, quindi agli addetti ai lavori ma anche sotto il profilo sociale. Sarà un punto di riferimento per i tanti ragazzi, partiranno anche i lavori per la riqualificazione del palazzetto, quindi un'area importante che potrà essere messa a disposizione del mondo sportivo in tutto in perfetta, ripeto, sinergia. Adaci Bonaccorsi invece è scontro tra maggioranza e opposizione al centro, la pista ciclabile in fase di realizzazione. La distribuzione di un volantino dai toni durissimi, lo vedete nelle immagini, fatto a stampare in gran numero dall'opposizione politica ed indirizzato all'azione del sindaco di Aci Bonaccorsi Vito Di Mauro, accusato, si legge testualmente, di follia amministrative e di progetto senza logica né visione rispetto alla scelta di realizzare la pista ciclabile su parte del tracciato cittadino, restituisce vigore allo scontro politico nella cittadina etnea. Aci Bonaccorsi, vittima di una follia, la firma del gruppo rinnovamente Libertà, uscito sconfitto dall'ultima tornata elettorale per il rinnovo di sindaco e consiglio comunale, che ad un anno dal voto alza la sticella dello scontro con poco garbo istituzionale, a giudizio di alcuni residenti vicino al primo cittadino, la cui risposta sempre con lo strumento del volantinaggio di imminente distribuzione non si è fatta attendere, bollando come pretestuoso il volantino della minoranza, ribadendo che il progetto di Smart City proseguirà e non subirà nessuna battuta ed arresto nel percorso intrapreso volto a migliorare i servizi resi ai cittadini, si legge nel documento a firma della maggioranza coese. La ciclabile del disaccordo si estende su un percorso di 8.000 metri, sfruttando parte di una vecchia trazzera di collegamento con il capologhe Teneo risalente all'Ottocento e lungo la circonvallazione del Paese, per un progetto che, una volta ultimato, doterà la comunità di una ciclabile di 8 chilometri su un comune che occupa appena 3 chilometri quadrati di competenza territoriale. Il sindaco Di Mauro replica così alle accuse dei costi eccessivi del progetto avanzato degli oppositori, ribadendo la sua visione di cittadina a misura d'uomo e in prospettiva green. Io credo che lo stile sia importante in ogni rapporto umano, ma soprattutto nei rapporti politici. La follia, io credo che la follia accompagni sempre l'innovazione, non c'è innovazione senza un pizzico di follia. La nostra innovazione, che peraltro non è un'innovazione, potrebbe essere un'innovazione per il Sud, ma non per tutto il resto d'Italia o d'Europa, è quella di dare importanza ai pedoni e ai ciclisti nella viabilità comunale. Questo è possibile perché possediamo delle strade abbastanza larghe da poter contenere sia i pedoni, sia i ciclisti, sia gli automobilisti. Dobbiamo da ora capire che i pedoni hanno la stessa dignità di chi sta in macchina e chi sta in macchina, se deve fare 100 metri in più, lo fa per dare le possibilità ai pedoni e di camminare in sicurezza. Quello che è il senso del nostro intervento e della nostra opera pubblica è questo qua, dare la possibilità di spostarsi volendo, anche senza usare l'automobile. Questa deve essere una possibilità data a tutti i cittadini, perché da questo dipende anche la salute dei cittadini e la conoscenza del territorio e vivere bene il nostro territorio. 8 km di vista ciclabile che stanno creando qualche disagio in paese, ma sono disagi normali per i lavori? I disagi sono sempre connaturate insieme ai lavori. Se ristruttura case, vedendo che non può godere della propria casa per un periodo di tempo, ma questo che cosa succede? Succederà che poi ne godrà meglio. E questo è quello che succede anche nelle opere pubbliche. In questo momento, stiamo finendo proprio di fare il giro, abbiamo 7-8 cantiere aperte da Cibonacorsi, perché vogliamo ristrutturare quelle che sono state denunziate le pecche che aveva il nostro comune e non ci rimediamo alle parole, non ci rimediamo all'enuncezione, perché siamo qua per agire, per rinnovare e per fare le cose. Parliamo adesso di rifiuti. 15 comuni della SRR Catania Nord si sono riuniti stamani a Giarre per discutere della prossima chiusura della discarica a Coda Volpe di Lentini. Intanto le società sono state chiamate dalla Regione ad individuare zone dove realizzare i tre termovalorizzatori previsti per l'isola. La chiusura della discarica di Lentini di contrada a Coda Volpe, che serve circa 170 comuni fissata per il 30 aprile prossimo, mette in allarme le SRR 18, quelle siciliane, preoccupazione per quella che abbraccia 15 realtà comunali alle falde del vulcano. La Catania Nord, di cui fanno parte tra gli altri anche Randazzo, Acireale, Riposto, Piedi Montetneo, oggi in assemblea a Giarre per valutare anche i nuovi scenari nell'isola con la collocazione di tre termovalorizzatori. Diciamo che è stato un momento importante di confronto tra tutti i sindaci della SRR Catania Provincia Nord. Abbiamo affrontato diversi temi, quello della potenziale emergenza rifiuti che si potrebbe registrare dopo il 30 aprile con la chiusura dell'impianto di contrada a Coda Volpe a Lentini. Stiamo cercando di trovare soluzioni e soprattutto c'è un'interlocuzione molto stretta e continua con il governo regionale per evitare che le disfunzioni di un sistema che stenda a decollare finiscono con lo scaricarsi sulle spalle dei nostri concittadini. Il pericolo è concreto perché si potrebbe registrare più che raddoppio il costo di conferimento in discarica dei rifiuti indifferenziati. Stiamo cercando di trovare soluzioni con un'ottima sinergia alla quale speriamo seguono dei fatti concreti. In assemblea poi stiamo affrontando un altro tema assai delicato che è quello della realizzazione sul territorio regionale di tre termovalorizzatori. L'attuale quadro normativo prevede che l'iniziativa parta dall'SRR e dal governo regionale, dal presidente Nello Musumeci in persona è giunto un appello volto a avviare questa procedura. Noi però prima di adottare qualsiasi scelta vogliamo avere piena consapevolezza di quelli che sono i dati. Con la chiusura di questa discarica cosa ci hanno proposto? Di indire, vedere, dare conoscenza sul mercato per portare fuori dalla Sicilia o in continente extra nazione, fuori nei paesi europei, significa inginocchiare i comuni. Non ci sono altre notizie, si conclude qui questa edizione del nostro telegiornale che potrete riseguire sul web, sul nostro sito, ecco l'indirizzo reitv.it, ma anche sul nostro canale YouTube e sulla nostra pagina Facebook. Una nuova edizione invece in diretta questa sera alle 19.45. Vi lascio adesso al meteo e poi alla programmazione della rete. A voi tutti grazie per averci seguito e buon pomeriggio. Appuntamento con il meteo, le previsioni del tempo in Sicilia di sabato 3 aprile, cielo ovunque parzialmente nuvoloso, venti deboli, mari calmi, le temperature oscilleranno nell'isola da 6 gradi a Enna, 24 a Ragusa e Siracusa, nel capoluogo Etneo, 13 gradi la minima, 23 la massima. Grazie. 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 Grazie.